Dottor Mazzeo, indagini difficili perché chi ha assistito non ha raccontato, avete appreso di questo fatto dall'ospedale? Esatto, le indagini sono state rese molto difficili dal fatto che pur essendoci diverse decine o centinaia di persone presenti, infatti nessuno ha raccontato la versione reale o una versione che consentisse di arrivare alla risoluzione dell'indagine, quindi è stato necessario attivare delle indagini tecniche e grazie a questo si è avuto un riscontro concreto di quelli che erano gli elementi già emersi e quindi si è potuti arrivare adesso all'emissione di questa ordinanza di misura cautelare. Voi avete fatto un appello a che le persone denunciino i fatti o comunque vedano nella procura e nelle forze dell'ordine un aiuto e non un ostacolo alla vita civile? Esatto, la difficoltà nasce dal fatto che spesso i reati non vengono denunciati, quindi manca addirittura la conoscenza da parte delle forze di polizia, della magistratura del fatto che un reato è stato commesso. In questo caso specifico è stato l'ospedale che ha segnalato l'arrivo di feriti di arma da taglio, ma neppure una telefonata anonima è arrivata da forze di polizia per segnalare quello che era successo. L'intervento della procura dei carabinieri ha bloccato eventuali sviluppi di questa vicenda? Esatto, c'è il rischio sempre infatti di questo genere che nascono il contrasto tra gruppi di giovani magari che vengono da paesi diversi, ma che hanno qualche motivo di rivalità anche per motivi futili, c'è il rischio che poi si crei un circolo vizioso, e quindi una vera e propria faida. Quindi attraverso questi provvedimenti speriamo di aver spezzato questo circolo che poteva manifestarsi magari un momento successivo.